Scusate se ve lo dico, ma avete proprio l'aria di due carabinieri che stanno spiando qualcuno. Dici? Beh, se continuate così mi adarmate i clienti. E secondo te cosa dovremmo fare per non distare sospetti? Beh, siete una bella coppia. Cercate di esserlo. Potremmo riuscirci. Così va meglio. Ma che sei matto? No, ha ragione Caterina, un momenti ci scopri.